benvenuti cari amici youtube benvenuti nel mio canale davidoncini oggi parleremo di un argomento molto ma molto importante come studiare uno standard jazz come approcciarsi le sue caratteristiche eventuali domande e ecco come suonarlo allora io qui sto studiando the days of wine and roses un brano di harry mancini come vedete i giorni del vino delle rose questo è il titolo in italiano un brano molto ma molto importante della storia di questo compositore italo americano che ha rimancini allora come è strutturato vediamo un po di capire come è strutturato questo che ha uno standard jazz allora vedete delle lettere sopra ogni battuta queste sono delle lettere che indicano un qualcosa che cose indicano indicano l'accordo scritto in anglosassone la sua natura quindi la fondamentale in questo caso sol e ovviamente la caratteristica dell'accordo quindi se è maggiore se è minore se è minore settima come vedete questo brano è in sol maggiore in chiave abbiamo sol maggiore e il primo accordo è sol sol may seven quindi il primo accordo è un accordo di sol poi andiamo avanti fa 7 quindi abbiamo un accordo di dominante di fa poi abbiamo mi 7 un accordo di dominante di mi 7 ancora mi 7 poi la minore a meno 7 e poi do minore e fa 7 e via discorrendo allora come come noi affrontiamo questo questo spartito no allora la prima cosa a fare è suonarsi il tema molto lentamente suonare il tema e capire il tema che suono ha perché il suono del tema è importantissimo perché è l'esposizione che noi andiamo a fare sulla storia un po di questo brano e anche sul suo suono questo brano è un suono che appunto il suono del tema poi secondo me la cosa da fare è suonare le fondamentali degli accordi quindi sol fa mi cioè suonarli in quattro quarti quindi sol fa mi e via discorrendo per capire un po il giro dato che la nota fondamentale è la nota più importante dell'accordo un po anche quello che fa anche i nostri amici contra bassistico walking bass e quindi suonare le diverse fondamentali di tutto il brano il secondo passaggio è quello di suonare quando oggi abbiamo una un po di dimestichezza con gli accordi quindi maggiori minori dominanti mi 7 diminuiti eccetera eccetera anche con le scale di suonare gli accordi quindi suonare gli accordi nello stato fondamentale quindi sol si re fa diesis fa la do mi bemolle mi sol diesis si re mi sol diesis si re la do mi sol la do mi sol do mi bemolle sol e si naturale fa 7 quindi fa la do mi bemolle si minore si re fa diesis la eccetera eccetera per tutto il brano il secondo passaggio è quello di costruire le frasi sugli accordi e sulle scale di questo brano stando attenti che in questa zona abbiamo l'accordo di sol questa è un po la zona di passaggio quindi questo qua è sol mai 7 che fa fa 7 qua abbiamo fa 7 quindi ci saranno delle note importanti come la mi bemolle do e poi abbiamo questo sempre una fase di passaggio qua mi 7 quindi abbiamo mi sol diesis si re e costruire un po le frasi intorno a questi accordi in modo molto tranquillo e anche molto divertente farlo anche con molta tranquillità ci dobbiamo prendere il tempo il tempo che ci vuole anche capire gli accordi capire le fondamentali e cominciare a costruire un po tutto il nostro discorso nell'improvvisazione ci può dare una mano il tema quindi improvvisare in maniera tematica e ma anche fare degli abbellimenti sul tema perché il tema si appoggia negli accordi no guardate qua re si si è la terza di sol qua inizia la frase con la che è la terza di fa qua mi che è la tonica di mi e la re che è la settima di mi quindi il tema si appoggia negli accordi nelle note cordali così per per rafforzare l'accompagnamento per se no non ci avrebbe senso se l'armonia fa una cosa il tema un altro adesso prova tu cerca di prima suonare le note fondamentali puoi suonare gli accordi e poi costruire le tue frasi le le tue frasi dico perché l'improvvisazione è una cosa individuale quindi devi far le tue le frasi con musicalità tranquillità e divertimento spero che il video ti è piaciuto e metti un like al mio video se ti è piaciuto e anche alla mia pagina il mio canale youtube david uncini grazie mille buona musica